E com'è andò? Ah, venticinquesimo su ventisei, come l'altra volta. E' un pezzo con cui sei legato. Era il retro, praticamente, di Vado al Massimo, no? Era il Corrivo al Massimo, se faceva... Vado al Massimo, vado al Messico, vado al Massimo, vado a Gocchierere. Vabbè, era per cominciare, insomma. Era un altro gusto, un po' semplice. No, era una finta, era. Non era. Perché questo è il lato B del 45 giri. Dov'è il batterista? Diego dove è andato? A Fabarco. Perché praticamente, cosa succede? Che era il retro, un lato B, ma come tutti i lati B che a noi ci piacciono, insomma, non si può fare battute perché c'è il DDN Zan, quindi non puoi dire... E il lato B era un brano che praticamente cominciava come una poesia. Inizialmente veniva suonato come un arpeggio di piano tipo questo. Poi dopo c'andava il testo, quindi c'era le rime, che viene giorno, che ritorno, ma dopo diventò una canzone. E la canzone non si può suonare. Non ci può suonare perché... C'è, si è spaccato, si è rotto, si è rotta la pelle. C'è il stop come alla Ferrari. La pelle di Daino, che non è quella che pensate voi. Tu lo sai, quando diventi vecchio, vieni dalla pelle di Daino, cioè non si può più trombare. Praticamente viene un ammasso in forme e tu devi arrangiarti con altre tecniche. Certo, però la macchina è pulita. La macchina, soprattutto il parabresta, è pulito. Con il detergente, metti lì, con la tua pelle di Daino, e la pulisci. Adesso io non so più che cacchio direi. Posso sempre raccontare quella del prete, però. Perché fai sentire la pelle di Daino? Perché lei va al confessionale e dice, devo confessarmi, dice, guardi, io ho fatto un amore col padre, miseria, allora gli ha detto, sì, però, 50 di Maria, 30, padre nostro, ma la tua chiesa, figliola, è questa qua? La voleva lui, la voleva. Non l'ha capita nessuno. Non l'ha capita nessuno. Si vede che ha dato pochi di dina. La chiesa, quello era un altro parroco e la voleva trombare anche lui. Non si può dire con l'ordine. Non si può dire, va bene. Allora racconta quell'altra, forse è un po' meglio. È già pronto, è già pronto l'uomo, eh? È già pronto, è la raccontata. Ma la siamo evitata. Allora, al bar, tanto che ci siamo, praticamente arriva il tipo e dice, oh, quest'anno, ragazzi, nostro argento porto mia moglie ai Caraibi. So, cioè, per le nostre dorsi a fette, alla vagatura. Questa è la più facile. Allora, questa è la, la capita. Andiamo a noi. Il brano che ho spiegato prima, che ve lo siete disascordati, però se è di vostro gradimento, dopo le prime mette le note, si può fare l'applauso. Ogni volta.